Musica Booyah raga sono Lock96 e bentornati su The Last of Us Oggi sono qui con... Chiester Bella ragazzuoli Purtroppo ci sentirete un po' piano Perché il mio microfono fa leggermente cagare Però... Allora innanzitutto mettiamo subito i sottotitoli Perché ci avete sfaracassato la minchia Non è vero vi vogliamo tanto bene Sì infatti adesso dirò questa cosa Allora ci sono arrivate un sacco di critiche Sul fatto che noi urliamo Che non si capiscono i filmati Perché siamo sfanfananfi E noi le accettiamo le critiche Cioè servono per crescere Però fatto sta che fatto sto Noi siamo fatti così E fortunatamente per certi versi Sfortunatamente per altri Vi metteremo i sottotitoli Così potrete seguire tutti i filmati che vorrete Tutti i dialoghi Tutte le pippe filosofiche Ha finito di fare tutte queste cazzate Possiamo partire con i gameplay Va bene va bene Cercheremo di non saltare i filmati Però se durano troppo Purtroppo Se durano troppo Purtroppo si sa Quindi partiamo Ci stanno le stelline Non te lo dico Ah è vero perché noi ogni 15 minuti Ci passeremo il fottutissimo microphone Ah c'è ragione Va bene parto io Allora quelle uno si mirava tipo Giusto 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 Perché dovete sapere che non lo registriamo da un pochetto Oh questa scena è già successa Allora in pratica voi dovete sapere che Noi ci troviamo in una situazione abbastanza ambigua Perché tipo Io per farmi sentire Cioè così mi dovreste sentire anche Di merda tra l'altro Per farmi sentire che devo stare tipo con la mia bocca Attaccata a quella di Locke E noi limoneremo E sembra che stiamo pomiciando Ma in tutto ciò di sotto Cioè non siamo soli a casa mia Quindi se entrasse qualcuno Nella porta e ci vedesse così tutti Si però Si svelo un segreto Non sento una cippa di minchia Del gioco Del gioco no Merda Merda giusto perché cuffie sono attaccate Alla tv Alla tv Cioè piccolo problema tecnico Piccolo tecnichello Però io non mi ricordo che minchia te può fare Quindi noi andremo di qua Però porca minchia Non mi ricordo come ci si abbassava Cerchio Questo è il grande problema no piccolo? Più avanti Hai sentito? Shhh 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 Vedi l'utilità dei sottotitoli? Cazzo Cazzo Tieni premuto R2 per intensificare l'udito di Joel Tanto non sento un cazzo Quindi Vabbè raga sarà una sorpresa Poi ce lo rivediamo Avvicinati in silenzio all'infetto E afferralo premendo Porca miseria Porca BAM Oddio Uuuuhu Oddio 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 Cazzo devo fare Va Vaffanculo 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 Vai mori Mori zoccola Zoccolo Zoccolo Oddio regà me sto a fomentare Oddio regà me sto a fomentare Mannaggia la miseria che spettacolo Vabbè Ma va bene Scusa Certo che si Mi chiamavano Gianfranco Cazzo c'entra Ma va bene Ce sono altri Siete contenti adesso che sentite tutto l'udito Coglioni Torniamo in city Oh sta cosa dell'udito mi ricorda Hitman Absolution Tipo La cosa tipo Listintello Però va bene Saliamo o andiamo dritti? Saliamo o andiamo dritti? Te lo sto chiedendo a te Cazzo donna Vai dritto Vai vai dritto Oh qua c'è Oh voi mi raccomando Se non mi sentite Ditemelo Che simpatico Coglione Simpatico Che devo fare? Perché se mi Mannaggia le merde Triangolo Ah E che cazzo? Dimmelo prima no? Tu sei una pippa no? Cioè sei una pippa al sugo Ma tu sarai una pippa al sugo Vai apri Ma c'hai pure letter manuale Delle istruzioni per farci Eh ho capito A me c'è una memoria De merda Si sa che ogni tanto Sfa un farampo Sì ragazzi Ha preso debiti Due debiti addirittura Che grande che sei Io invece senza Ammesso senza debiti Promosso diretto Toccava andare su comunque Vuoi sapere che lui E' un secchione Non so E a me piace la figa E quindi Sì 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 Saliamo su Tu mi porti su Intanto non si sarà sentita una mazza Io quello l'ho detto sussurrando Perché non mi ricordo Allora signori Abbiamo Questi problemi tecnici Da quando stiamo registrando Della Stofas Quindi colgo l'occasione Per fare una parentesi E chiedervi Una cosetta In pratica Volevo chiedere Se voi Aveste Un'idea Un modo Sapeste come fare Per poter sentire L'audio Del gioco Da due cuffie insieme In modo che io e Lock Vabbè A parte che adesso Non lo sentiamo nemmeno in una Ma quelli sono dettagli Così che io e Lock Possiamo sentirlo insieme Mentre giochiamo Io credo che si possa fare Con uno suddoppiatore Del Jack 3.5 Se qualcuno lo dovesse sapere Ce lo scriva E vabbè Quindi se avete altri modi Non lo so Scrivete Oh ragazzo troppo forte Capisco Vai traduci Hey brother Non riesco a leggere Quello che c'è scritto We were so close Siamo così vicini Sono seduto fuori The wall Vabbè Voi metterete in pausa E ve lo traducete Con google Translate This is the way Per quanto tutti Per quanto tutti se ne lamentino Ci sono un sacco di poverazzi Che vorrebbero Tutti vivere Allora 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 Che si faceva Quello lì che tipo Ah L3 Che si dirigeva nel punto In cui C'era la mission Andiamo all'esterno Scusa Me sai che è una cazzata Perché No Ok giusto It's correct Però questa Ah un po' d'aria fregna Questa è acqua contaminata Un po' d'aria fregna Un po' d'aria fregna Mo' pop nosso L'unica Eh Ti credo È l'aria fregna A chi no Gli devi Odio la puzza che c'è in city Chiedi a Bill Tutti sti giochi No I deodoranti Pensano I deodoranti Ma che cazzo Il ragionamento fa Cioè È giusto Perché tu sei Dentro in un E di demia zombie E poi il deodoranti Sì Quella sta a entrare nel buco Ah io devo coprirle Entrata Capito Tu intendi questo Per coprire A merdo Esatto Guarda come piotta Quella zocco Leila Ma sei bel culetto Però non mi ricordo Ah in le due Si può Prima o poi Prima o poi Questa fa una brutta Spingila Spingila Vai Gio Non lo posso fare Guarda Adesso faccio La stasi iscritta Non ci posso andare Ah devo scendere E fare quella cosa Me sa Scendiamo No da qui ci sono venuto Sì sì Era giusto Era giusto Era giusto Sì Sei sciuro Sei sciuro Sciuro Ma arrivano gli zombie Ma lo sento Devo prendere l'asse Adesso io passo a lei Ok ok Posiziona Pazzarela 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 Beh mo che cazzo ci faccio È pesante Credo di potercela fare Pazzarela È una tipa tosta Porca puzzola È una tipa torta Torta Adesso vorrei che tipo Con l'editing Sapessi fare una torta Io la sapessi fare apparire in testa Tipo Piii Campare la torta Sarebbe stato Ero Ma non lo sa fare Perché è una pippa E c'hai debili Immaginate che io lo sapevo E che abbia appena fatto apparire una torta Sali Culo pesa Ma ha detto culo pesante Il mio culo pesa quanto mi pare Va bene Dove è andata? Ehi zocco leg Ma non si vale il codice Nel frattempo dimmi il codice Che non si Ah 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 Mazza non è che tu vengono a scippare Sì Vengono a scippare Cazzo Yes Yes 7 minuti e 34 Seconda Seconda Quindi tra un po' il joystick passerà a questa pippa Seconda dell'onda Che si è fatto già ammazzare nel primo episodio Ricordiamolo Ma quanto? Sì ti sei fatto ammazzare Ti stava rincorrendo C'è di Thailand So più le porte che mori Che le porte che calmi Ma quello che c'è Tranquilla è un'altra cosa Per la miseria Prendi l'immunizione Sei una tipa tosta Ora ti resta un secondo Tipa tosta Sei una tipa tosta Ma come si chiama sta tizia? Perché lui c'ha la ventolina No fermo Perché c'ha la ventolina per respirare sulla spalla? Cazzo sei tu Guarda guarda C'è la ventolina per respirare sulla spalla Gira la visuale No 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 scusa Davanti sul petto E' una torcia Mamma mia che Che figo Cioè scusa si accende con la forza del pensiero Sì E' un piccolo Jedi E' un piccolo Jedi Wow Dai Già il paxarello Vabbè Certo segui la Andiamo Let's go Let's go to the L Ma come fai a stringere il mirino? L1 E come fai a tirar fuori alzano? L1 Cioè lo dite nel primo Sì Ci sono i cagnolini Si diventano cani zompi Ciao Io non so che cazzo devo fare Vabbè esploriamo No Ehi bella Bubba Se tocchi compri Tess quanto tempo? Non ci viene più a trovare qui Noi tutta famiglia Stare bene Noi tutti negroni Tutti felici Fatti fatti due Ehi Gabo 5 euro Gabo 5 Cocco Cocco bello Oh qua c'è Fight Club Aspettate Prima regola del Fight Club Non parlare del Fight Club No E' la scopa delle mogli Di quelli che fanno Fight Club Le lasciano da sole a casa Indesiderate E tu vedi a Mettere loro Se stanno a massare fuori E se fanno male Ma che cazzo Tu te vedi troppi film Chi è? Cose vecchie Allora Allora Non torna indietro Cioè segui la nerd qui Ciao nerda Ciao nerda La versione di questo Mi pare quello di Infamous Second Sound E' Robert E' Robert E' versione nera Di quello di Infamous E' un nagro E' lì ora Passa 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 Dammi i soldi Passa Vai vai Veloce Dai fatto sconto Veloce Veloce Allora Guarda c'è un pisello Rise Che significava rise Rise Vendetta Vendetta No il ritorno Era Nascita Cioè nascita Rise La 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 Il ritorno Ascesa Dovrebbe essere Era io che davo le capocciate Alla Scrivani Anno Dio Non dice questo Che mi dice Do chezzo Do vanna Non me sta bene Silenzio Che vogliono sentire I dialoghi Si c'è ragione Corcazzo Oh Porca puttana Che grande Accovacciati dietro Agli elementi Dello scenario Per proteggerti Dai colpi D'arma da fuoco Ti copro io E qui Parti Il gameplay Alla Wow Mamma mia Che schivata Eccolo BAM Uno Ricarico Ricarico QR1 Cazzo 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 Merda Silenzio Non fare Liscio Preso Ma te sai Guarda No Zitto No Che palle Oh regà Guardate che questi C'hanno un'intelligenza Computeristica BAM Allora Tralasciate le discutibili doti Balistiche di Loc Mi sto curando Mi devi scrivere sto cazzo di codice Dell'iPhone Che palle 4709 Adesso tutti quanti potranno Saperlo Adesso sapete il codice di sblocco Dell'iPhone E potete Shipparglielo Saaah Ricarico 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 Che fra tre minuti Il joystick passerà a me Anzi due minuti e mezzo E quindi potrete godere di un gameplay Come Cristo Ma taci Che quando gioco io Ci sono le peggio cose Le peggio emotion Le peggio emotion Tammela Con braccio solo Porca puzzola Senti che tipo Non ce l'avete presente Allora vi racconto una cosa Se qualcuno di voi Avesse studiato chimica Quest'anno Deve sapere Che praticamente Ci sono delle donne Che in pratica Hanno un cromosoma Che invece di essere XX Come dovrebbe essere normalmente È XXX Cioè ha una X in più In pratica E questa X in più Fa sì che siano Tipo delle super donne Cioè hanno tipo più forza Sono tipo più Delle bestie E quindi questa Abbiamo scoperto Che è una Con il cromosoma XXX E quindi da adesso in poi La chiameremo il cromosoma Sì Un'altra azione di merda Vabbè cazzo Senti i dialoghi E degli elementi Ci stanno i sottotitoli La furtività Preciso e pulito Texas Ma che cazzo Ma non stavamo giocati La stavassa raga Ma stavamo nel Texas Ok Quello uno se l'è fatto lei Però certo cazzo Me li sarevo Meccaniche ste alt Zard Forza 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 Vieni qua bello Volevo dirtelo Cazzo Cazzo C'è negro zio Te levi dal cazzo Se li hanno messi Contro un muro E bang 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 Gang bang Cazzo Cazzo